La città non vede l'ora, per noi sarà un giorno di festa, ma sarà anche l'occasione per guardare con occhi nuovi alla nostra città. Il Papa ci dà sicuramente un messaggio di misericordia, però anche di guardare alla realtà, quindi di riflettere sulla nostra comunità in un momento in cui abbiamo bisogno di apertura, di tolleranza.